Grazie a tutti Non hanno aperto le bimbi di dire ai ragazzi di aprire lo striscione, per cui sono stati aggrediti e allontanati con modi molto pesanti e lo striscione, hanno tentato di portare via anche lo striscione. Ma appena sono arrivati i ragazzi? Appena sono arrivati, non è successo assolutamente nulla né c'è stata alcuna reazione da parte dei ragazzi, invece ho visto un comportamento scorrettissimo da parte delle forze dell'ordine, hanno aggredito anche una signora strappando le capelli che era insieme a loro e li hanno respinti malamente, evidentemente non si può più neanche contestare civilmente in questo paese, questa è una cosa che fa molto rabbia.